Presidente Zaia, un appuntamento importante questo della Lega Nord di oggi che riparte dalle tre regioni del Nord, un fronte del Nord come è stato definito in vista di un progetto macro regionale che non si ferma. Ma direi che è un grande progetto, la volontà di mettere assieme le buone pratiche, le grandi esperienze e quindi che se il Veneto apre gli ospedali di notte lunedì, mercoledì, sabato e la domenica a dare modo di mutuare questa esperienza anche nelle altre regioni e così vale per il Veneto qualora vi fossero delle esperienze e ci sono sicuramente positive in Lombardia piuttosto che in Piemonte. Quindi direi che i cittadini hanno risposta a quella legittima aspettativa che hanno sempre avuto e che è quella di vedere le tre regioni del Nord assieme a governare ovviamente dando le stesse risposte ai propri cittadini. Il segretario Salvini ha detto che il Nord le riforme se serve se le fa da solo. Una risposta importante a una politica romana che in questi giorni è impegnata più che altro sulla legge elettorale e altre beghe tra i due principali partiti. Diciamo che Roma non è che ci siamo di molto aiuto, per noi Roma è inesistente, però Roma non significa ormai neanche più un punto d'appoggio. Noi vogliamo invece sottolineare che abbiamo quell'autonomia decisionale che ci permette assolutamente di dare risposte ai nostri cittadini. Rivendichiamo ovviamente competenze non concorrenti, esclusive e chiediamo che si dia corso al dettame della Costituzione dove si era prevista un'ossatura di uno Stato federale che oggi ancora non c'è. Il Veneto è chiamato a una sfida importante e anche esemplare dal punto di vista dell'autonomia e dell'indipendenza. Una mobilitazione che rilancia una vecchia sfida. È una mobilitazione che per noi significherà il primo weekend di marzo, una gazebata per intervistare, per sentire e udire i Veneti circa la loro disponibilità o meno all'indipendenza. È una preview, come direbbero gli inglesi, una vernice di quello che potrebbe essere un referendum per l'indipendenza. Ma è anche un'occasione per parlare di indipendenza in Veneto. Un Veneto che è una regione che è assolutamente, profondamente identitaria e che crede in questi concetti. Grazie. Grazie.